La rivoluzione, la rivoluzione, la rivoluzione non è un semplice avvenimento. La rivoluzione, la rivoluzione, la rivoluzione è una conquista quotidiana. Cina, Cuba, Algeria, Russia, Cile, Vietnam sono esempi di vittoria della nuova civiltà. La rivoluzione, la rivoluzione è la distruzione dei manicomi, degli ospizi e le prigioni. La lotta continua, la lotta continua, la lotta continua contro ogni sfruttatore. La lotta continua, la lotta continua contro ogni sfruttatore. La rivoluzione, 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 la